io vi giuro che non ho parole, io vi giuro che non ho parole, io non ho, ma tu puoi, ma tu puoi, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu puoi fare un turnover quando ho letto la notizia due giorni fa ho detto vabbè dai, sarà pretattica, staranno chiacchierando, staranno straparlando ma ti pare che una persona, anche solo una persona nel mondo che fa, io capisco, l'impegno importante, fonda, torna 10 undicesimi, 10 undicesimi, 10 undicesimi ma è una follia, ma è oggettivamente una pazzia, ma tu non ti meriti di vincere, se scendi a livello mentale intendo, poi il livello di campo quella è un'altra cosa se scendi in campo cambiando 10 undicesimi, facendo una forma, io ripeto, qualcuno mi ha pure scritto in privato fanno bene, le coppie sono più importanti, anche la Roma dovrebbe fare così, ma io condivido però, giustamente, facevano notare prima, Dazon, prima della partita, dicevano, però l'ultima volta il Milan andò ai quarti di Champions Ancelotti ne fece, tra la partita e un'altra, ne fece 5 di cambi, e 5 ce può anche sta ma io ti dico, anche se, volendo, se li fai bene, ce può anche sta perché poi il Milan, ad eccezione di qualche tassello, cioè la squadra, i panchinari, li ha non credo che questi giocatori, da qui a fine anno, messi in una squadra, se questi due titolari e poi i panchinari sono tutti da livello inferiore riescano ad arrivare in Champions, forse, probabilmente, manco in Conference League gli 11 titolari di oggi del Milan non lo so, però, comunque, 10 undicesimi vuol dire che a te del campionato proprio non te ne frega niente e sbagli, e sbagli, perché da adesso in poi, brutto da di, sono tutte finali, perché a noi dimostri sono tutte finali poi, chi dice che sono tutte finali, poi le perde tutte, quindi io non lo dico, io non lo dico però, comunque, più o meno è quello, nel senso, più o meno, saranno tutte partite fondamentali da giocare che significheranno passaggio, cioè qualificazioni in Champions League o no cioè, adesso, in questo momento, tutte quelle partite che stiamo vedendo, tutte le partite che verranno giocare sono fondamentali, sono fondamentali, e prima di iniziare, vi ricordo, apparto, inizialo da due minuti di seguirmi su Instagram simonesi col trattino basso official, mi raccomando uno di voi il primo maggio vincerà una maglia vi dico anche un'altra cosa, è uscito oggi, ogni 15 alle 15 la puntata con Jeddah, tutti i teorici il podcast con Luca Doselli e Luca Mastrangelo quindi, mi raccomando, fateci un salto detto questo, arriviamo a Bologna-Milan ci aspettavamo una partita di questo tipo magari, proprio non per come si è messa subito però ce l'aspettavamo, è un Bologna che va a 3.000 è un Bologna che va a 3.000, anche senza Arnautovic poi, ormai, inizio anno, quando mancava Arnautovic dicevamo, anche senza Arnautovic, anche senza Arnautovic ormai non lo diciamo più, addirittura Arnautovic è infortunato ma quando Arnautovic c'era, addirittura Tiago Motta aveva fatto delle scelte che non vedevano manco più Arnautovic titolare quindi aveva proprio perso anche il posto nelle gerarchie Tiago Motta è un allenatore che sa fare quello che fa sa fare il suo lavoro e lo dimostra di domenica in domenica e lo dimostra ogni volta che fa scendere in campo il suo Bologna dall'altra parte, ripeto, il Milan gioca con Ciao e Calulu centrali e ci poteva anche stare poi Florenzi a destra, ballo a sinistra mi sembra un po' too much ma vabbè, a centrocampo addirittura Pobega e Vranx questi sono giocatori che io lo dico proprio senza grossa paura che messi in un contesto in cui ci sono 5-6 titolari e qualcuno a giro possono far molto bene molti di questi a me piacciono ma io mamma da tu è normale che poi fai anche fatica a vedere chi dei giocatori in questione magari è un po' più forte chi è meno forte eccetera tre quarti con Rebic, Selmeker e CDK che io lì per lì quando l'ho visto ho detto e vi dico la verità ho pensato che questa potesse realmente essere la partita di De Gedelare perché fino a questo momento diciamolo chiaramente De Gedelare ha sempre fallito con la maglia del Milan per tutto l'anno poi lo venderanno ad una portoghese farà 46 gol e poi andrà a giocare per il Manchester United proprio questa è la storia, la prassi di tutti i giocatori che passano in Italia e poi falliscono e poi si ricostruiscono in Portogallo ma al di là delle battute De Gedelare mi aspettavo che ok ci sta che tu abbia un po' più di pressione nei match in cui tu vieni scelto come super titolare tra i super titolari ma se tu sei il diciamo uno dei migliori tra una banda di gente che il campo non lo vede mai magari la pressione non la senti anzi ti senti anche posto a dover aiutare una banda di gente che insomma non rende e vabbè poi davanti giocavo Righi ma pure questo no pure Righi io Righi posso anche cioè Righi è anche giusto che ci sia no anche se poi insomma mi è piaciuto molto più Rebic che Righi ma adesso ci arriviamo è giusto che ci sia Selmeker Rebic De Gedelare probabilmente il Milan per me avrebbe dovuto mettere almeno un terzino dei due o Calabria o Teo Hernandez e poi almeno un centrocampista o Tonali o Benazer per me doveva giocare e invece vabbè era molto molto ridotto all'umicino il parco titolari scelto dal Milan tra l'altro stavo vedendo un dato statistico strano proprio ma insomma coerente con quello che raccontiamo da qualche settimana su questo canale ovvero che nella classifica di ritorno solo di quella di ritorno Napoli e Lazio sarebbero primi a 24 punti ma la Lazio già ricordiamo una partita in più che ha vinto ieri 0-3 ne ho parlato stamattina sul mio altro canale Simone Siqual poi Juventus 21 punti e Bologna 20 cioè quindi questo Bologna sarebbe quarto in classifica contando solo il girone di ritorno questo ci fa capire anche come i rosso-blu stiano facendo veramente veramente bene detto ciò sapete qual è il discorso? che il Milan tutto sommato come panchina per me resta anche forte chiaramente è così anche la panchina non è male cioè vi dico la verità anche vedendo è un turnover che ci può stare però è una scemenza è una stronzata decidere di scendere in campo con 10 undicesimi tant'è che sarà il caso perché può capitare di prendere un gol dopo 30 secondi può capitare però se poi devo andare a fare un'analisi tattica del gol che il Milan prende nei primi 30 secondi per me è una questione anche di alchimia cioè i giocatori che tu oggi hai messo in campo al Milan penso che mai abbiano mai ci sia stata una formazione del Milan che ha giocato insieme in questo modo mai mai nella storia ok? mai successo è normale che non ti trovi è normale che a freddo parti un po' un po' col culo col culo col culo freddo e qualcuno mi dirà vabbè sic però mo stai vagheggiando cioè alla fine sono giocatori di calcio sono professionisti ma non è così cioè quando tu non ti conosci ci sta che parti un attimo bloccato e quello è quello che è successo poi il Bologna è una squadra pericolosa che va subito in verticale che ci mette un secondo a buttarsi in avanti che non ci pensa minimamente magari ad avere paura nel non portarti magari a farti col subito e questo succede perché il Bologna ti purga immediatamente dopo 40 secondi con marcature tutte leggere con zero cattiveria con il Milan che non tocca praticamente mai la palla e con Sansone che lo fa da punta vera perché si infila da punta vera detto ciò mi ha fatto rito un commento ha detto Pioli ha sbagliato ha switchato sulla formazione turnover di FIFA e si è ritrovato questa formazione qua Skorupski dietro a una certezza nel primo tempo fa due parate nitide fondamentali importanti per questo Bologna ma Skorupski è un portiere ormai a mio avviso completamente maturo e devo dire una cosa prima di parlare del gol del pareggio ovvero che vi dirò la verità io forse Rebic lo vedo più punta che esterno cioè alla fine anche giocando alla sinistra faceva i movimenti da punta e pestava i piedi a Dorighi pestando i piedi a Dorighi insomma tanto valeva mettere punta e buttare qualcuno dall'altra parte vabbè però quelli sono e quelli il Milan ha pareggia poi il Milan con una bellissima conclusione di Pobega io lo amo lo dico sempre lui ed Elmas io li prenderei ora a Roma ho citato due panchinari Napoli non te lo darà mai però ho citato due panchinari delle squadre in cui giocano Elmas e Pobega ma per me sarebbero titolarissimi nella mia Roma o anche immaginatevi lì nella Lazio quanta differenza farebbero con Maurizio Sarri allenatore ecco pazzesco Pobega gioca un po' poco vi ripeto se lo metti in condizione di giocare con dei titolari per me può fare anche la differenza lì c'è anche una grande azione corale sbagliata da parte della difesa del Bologna perché sbagliano tutti a turno e il Milan continua a calciare da fuori fin quando tutti non hanno sbagliato a turno e poi calcia uno dalla distanza cioè Pobega palo gol ed è il gol del pareggio da lì in poi il Milan il gol non lo trova più manco il Bologna finisce 1 a 1 un pareggio che al Milan non sa né di carne né di pesce la mia Roma domani non vincerà mai ma dovesse vincere anche se non me la sto gufando sono quasi sicuro di questa cosa però dovesse vincere insomma sarebbe un problema grosso per il Milan che ha preferito giustamente la Champions League ma forse ha esagerato perché già Bologna per me non sei così sicuro di vincere se poi giochi con questi fatemi sapere la vostra